cari amici appassionati di monopattini elettrici e non solo vi vado a recensire un altro prodotto che ho acquistato per il mio monopattino elettrico si tratta di questo porta smartphone veramente utilissimo quando magari state andando appunto in viaggio non sapete la strada e volete guardare su google maps e i materiali sono veramente ottimali cioè un metallo quindi davvero utile l'ho anche testato diciamo per un anno quindi vi dico la verità anche contro la pioggia non ha presentato segni di corrosione si regola girando questa levettina quindi si apre come vedete qua sono indicati appunto le aperture 55 mm barra 95 mm la massima estensione e poi sul retro adesso lo vado a girare si può notare appunto come tramite questa rotellina si può snodare e quindi muovere davvero a 360 gradi ma non solo anche in posizione sul retro e sul davanti la parte in alto quindi davvero comodo vi lascio il link in descrizione ovviamente per attaccarsi al manubrio diciamo del monopattino basta andare ad avvitare le con la brugolina che arriva in dotazione le vite e quindi queste due parti si vanno ad attaccare ovviamente per evitare che me lo rubassero sono andato anche a fare due punti di saldatura al di sotto ve lo consiglio così che non si può più staccare ottimo prodotto vi aspetto per la prossima video recensione anche riguardo al accessori per il monopattino elettrico alla prossima video review link in descrizione come sempre se avete domande non esitate a formele